Buongiorno a tutti, parto io? Un momento. Mi chiamo Paolo, sono uno dei cofondatori di Ninativa, la caratteristica come azienda è perché è la prima azienda europea a aver ricevuto la certificazione B Corp, ne parliamo durante il giorno, e poi è stata la prima azienda italiana, adesso ce ne sono circa 150, a essersi trasformate in società Benefit. Poi sono cofondatore di Crocker, di Hub Roma e da poco più di un mese di Singularity University Italia, per chi vuole poi possiamo approfondire questi discorsi. Allora, intanto vorrei partire con l'intento di oggi, anche come dire, aprire la vostra osservazione a fenomeni che stanno già avvenendo, che però purtroppo non sempre ce ne accorgiamo, sono sicuro che in questa platea ci siano diverse persone che sono molto avanti rispetto a altre situazioni in cui mi trovo a parlare. Però intanto vorrei fare un esperimento con voi, che è quello legato al fatto che vorrei riscrivere una parte della vostra sensibilità celebrale, e per fare questo vi dico subito che il processo sarà irreversibile ma non è affatto dannoso. Quindi intanto vi chiedo cosa vedete in questa immagine. Lanciatevi. Com'è? Omer. Pramp. Omer. Poi? Cosa vedete? Cosa riuscivi a vedere? Più forte per favore. Dai dai, buttatevi. Un cane. Poi? Un fiume. Cos'altro vedete? Nulla? Coccodrilli. Io non sento bene, quindi dovete urlare. Una fontana. Ok, diciamo, qualcuno vede l'astronave? Allora, dietro questa immagine è nascosto un... un dalmata. No? Un cane. Vedete? Lo riuscite a vedere adesso tutti? Ecco, sì, ovviamente sì. Adesso lo vedete? Ecco, la cosa interessante è che da oggi in poi, quando vedrete questa immagine nel futuro, in qualunque momento del vostro futuro, voi vedrete immediatamente il dalmata. Ecco, quello che vorrei fare oggi è farvi aprire, diciamo, la mente a una serie di immagini che esistono in questo momento, che però magari non cogliamo al volo. Comincio con una cosa che ho aggiunto ieri notte mentre tornavo sul treno da Milano, ed è questa immagine, questa è una scarpa, probabilmente molti di voi avranno visto un modello simile, è una scarpa che ha delle lucette vulcanizzate dentro la gomma, classica scarpa da bambino, ci sono marchi italiane che ne hanno venduti milioni e milioni. Io ho conosciuto il designer che ha inventato questa scarpa, una scarpa di grandissimo successo nel mondo. Il punto chiave, abbiamo ragionato per alcune settimane insieme con questa azienda per trasformare in una direzione di sostenibilità, e un giorno in un angolo di una stanza in cui avevamo un workshop, c'era l'inventore di questa scarpa, che era in una situazione così depressa, molto riflessivo. Allora mi avvicinò a lui e gli chiedo come mai fosse così, in quella situazione. Lui si era reso conto incredibilmente in un dato momento della sua vita, molti anni dopo aver progettato questa scarpa, che lui aveva anche fatto questo, che più di 40 milioni di batterie per questa invenzione sono adesso disperse nel landfill del mondo. soltanto per le scarpe che aveva inventato lui per quel marchio, quindi uno dei tanti che stanno usando questa scarpa. Nel momento in cui lui progettava questo modello di grande successo, ripeto, che cosa è successo? Lui non ha tenuto minimamente in considerazione, per esempio, il fine vita di quel prodotto. E quindi nel momento in cui l'ha progettato, ho pensato ad aspetti estetici, funzionali, e quindi ho immaginato come faccio a inventare un processo tecnologico per nascondere il più possibile la batteria. E quindi sono riuscito a inventare un metodo di processo che vulcanizza la batteria all'interno della suola, solo che a fine vita, e sapete che per un bambino la scarpa dura qualche mese, tu la scarpa la prendi, la metterai per un po' magari dentro un armadio, la regali al cuginetto, ma a un certo punto da qualche parte finisce. Le scarpe che avete voi in questa stanza, al 99%, rappresentano già adesso un rifiuto speciale per come sono fatte le scarpe che indossate voi in questo momento. Questo qui non solo è al 99%, ma ha un impatto ancora più grande. Quindi quel designer nel momento in cui concepiva un prodotto, vediamolo anche nell'aspetto di un servizio, non teneva in considerazione questo aspetto. Allora l'80% dell'impatto di un prodotto, di un servizio, vengono decisi nella fase di design. L'80% di quell'impatto, l'impatto ha un'espressione, in questo momento lo sto usando con un'accezione negativa, ma da qualche mese, da qualche anno, la utilizzo con un'accezione positiva. L'impatto può essere positivo, non è necessariamente negativa come espressione, anzi gli americani la usano quasi esclusivamente con un'accezione positiva, da noi ha un senso negativo. Immaginate che l'80% dell'impatto di un prodotto, di un servizio positivo o negativo che sia, viene deciso da un designer, nel momento in cui progetta e concepisce quel prodotto. Però quel designer deve considerare che lui non si trova in un ambiente, diciamo così, isolato, ma si trova sul pianeta Terra. Una delle cose che ho imparato nella mia vita, più importanti, ma veramente più importanti, e chi, Carlo, ne abbiamo parlato anche qualche anno fa, è una delle cose che mi ha cambiato la vita, ed è quasi banale. E cioè sapere, o meglio, realizzare, concepire, avere sempre davanti a me, sotto controllo, il fatto che la Terra è un sistema aperto per energia, ma è chiuso per materia. Sono due parole molto semplici, l'energia e il Sole arriva sulla Terra, per materia vuol dire che la stessa materia che esisteva 4 miliardi e mezzo di anni fa sulla Terra, quando è nata, diciamo, dopo il Big Ben, è la stessa che si trova in questo momento sulla Terra, a meno di qualche meteorite che ha colpito, come sapete, durante la sua lunga vita la Terra, o di qualche satellite che abbiamo mandato fuori dallo spazio. Nello spazio. È la stessa materia. Quindi anche quell'idea di quel designer che ha messo le batterie, sa esattamente che quella stessa materia rimarrà sulla Terra. Allora noi, quando, anche nella mia azienda, ci troviamo a progettare nuove aziende, o lavorare per aziende che esistono, per essere, diciamo, noi a prova di futuro, gli spieghiamo a tutti i designer che loro si trovano esattamente sulla Terra, che è esattamente equivalente alla stazione spaziale orbitante. Non c'è differenza. Questa fantastica invenzione dell'uomo è aperta per energia ed è chiusa per materia. Quale designer avrebbe mai potuto concepire la scarpa che abbiamo visto prima all'interno di questa astronave? Nessuno. Siete d'accordo? Perché doveva concepire un prodotto che avesse magari il ciclo chiuso, che non avesse quindi un impatto a fine vita. E la stessa cosa è progettare quindi una scarpa sulla Terra come all'interno di un'astronave. Perché il sistema è chiuso. Questa è una foto vera, è un campione, i più grandi campioni di surf del mondo, sta surfando vicino Bali e guardate in quale onda surfa. in questo momento c'è più plastica negli oceani che sulla Terraferma. Questo è un dato scientifico che è il risultato di una ricerca condotta negli ultimi anni, c'è più plastica nei mari, negli oceani che sulla Terraferma. Questo è quello che hanno trovato gli elementi chimici non, diciamo, preesistenti, che hanno trovato nel latte materno di una donna nordamericana e ce ne ha molti di più di quante non ne avesse sua madre. Quindi questo è ancora una volta un sistema chiuso. Queste sono le mie due figlie, è una foto di un paio di anni fa, non so chi di voi ha figli, puoi alzare la mano per favore? Ok, io dobbiamo calarci nel tempo, oltre che nello spazio come abbiamo fatto fino adesso. Nel tempo io dico provate a immaginare, a calcolare in che anno i vostri figli avranno la vostra età di oggi? La domanda è un po' contorta. In che anno? I vostri figli, o immaginate di avere un figlio tra un paio d'anni, in che anno, per chi non ce l'ha, avrà la vostra età di oggi? Io ho 46 anni, Alice è la più grande, ne ha 13, quindi più o meno nel 2048 mia figlia avrà la mia età di oggi. Questo mi aiuta, molto spesso sentiamo dire, anche prima abbiamo sentito qualcosa sui sustainability goals delle Nazioni Unite, 2030-2040, sembrano proiettati nel futuro in un tempo lontanissimo. Ecco, mia figlia avrà la mia età di oggi, e quindi ho una grande consapevolezza di cosa significa avere la mia età, nel 2048. Questo mi avvicina brutalmente a quegli anni, e tutti quindi gli obiettivi di cui sentiamo parlare spesso nella nostra vita. Perché è importante questo? perché questo è un B-52 che è stato volato, diciamo, nella seconda guerra mondiale, quindi diciamo nel 1942-43 per la prima volta. Ecco, il punto chiave è che 50 anni prima, nel 1900, non c'era nessuna persona al mondo che potesse immaginare l'esistenza solo dopo qualche anno, quindi quando mia figlia avrà la mia età di oggi, che questa cosa avrebbe mai potuto volare. Allo stesso modo, questo è un oggetto, avete tutti quanti, voi sapete in chi anno è stato lanciato questo oggetto? Chi lo dice? 2007, ottimo. 2007. Oggi, questo oggetto, non so se avete mai visto questa foto, ma qui sopra è l'elezione di Papa Ratzinger, città del Vaticano 2005, c'è un Motorola, mi pare di riconoscere lì, a sinistra, a destra, quando invece è stato eletto a Papa Francesco, questa è la foto nello stesso punto di Via di Conciliazione a Roma, per dire anche l'impatto esponenziale, con l'accelerazione esponenziale che stiamo avendo. Infatti, gli esponenziali sono dei temi che anche un designer deve tenere assolutamente in considerazione. Guardate questo, questa è la madre degli esponenziali e la crescita delle popolazioni terrestre. Ci è voluto 3,8 miliardi di anni per avere il primo miliardo di esseri umani sulla terra. Ci sono voluti poi 123 anni per raggiungere il secondo miliardo, leggete con me 33 anni, 15 anni, 13 anni, 12 anni e ancora 12 anni. 31 ottobre 2011 siamo arrivati a 7 miliardi e adesso siamo su 7,5 miliardi, molto vicini. La cosa interessante di questo numero, ancora di questi numeri se li guardiamo, io l'ho già detto alla mia età, sono nato nel 70 e nel 70 la popolazione terrestre era la metà di quella di oggi, 3,4, quindi ancora meno della metà miliardi di abitanti. Un'altra riflessione, mio padre è nato nel 32, guardate qui, era un terzo di quella di oggi. In due generazioni abbiamo triplicato il numero di abitanti sulla faccia della terra, quindi anche in questo senso è uno dei vincoli, è una delle condizioni al contorno che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. Andiamo rapidamente verso i 9,5 miliardi di abitanti che avverrà intorno al 2040 e abbiamo visto quanto è distante il 2040 da oggi. Un altro dato che vi voglio far vedere è questo di Economist, fa vedere tutto ciò che l'essere umano ha prodotto negli ultimi 2000 anni diviso per secoli. Vedete l'istogramma nero, quindi primo secolo, secondo secolo, e vedete come nel ventesimo secolo l'essere umano ha prodotto il 55% di tutto quello che ha prodotto negli ultimi 2000 anni, 55%, questo è un esponenziale. Guardate però il ventunesimo secolo il cui conteggio è fermato ai primi dieci anni, l'essere umano nei primi dieci anni del ventunesimo secolo ha prodotto quasi il 24% di tutto ciò che ha prodotto negli ultimi 2000 anni, quindi che significa che se ci prognettiamo a fine secolo avremo una ridistribuzione di questi istogrammi e possiamo immaginare come sfonderemo anche il soffitto di questa struttura. Sono esponenziali, noi siamo, con voi non c'è bisogno di usare metafore particolari, sono sicuro, ma i popcorn spesso aiutano come idea a parlare di esponenziali, il 95% del tempo non succede nulla, nell'ultimo 5% del tempo esplodono i chicchi di mais e avviene il 95% del processo. Un esponenziale, io sono un ingegnere, ho studiato varie cose durante, in particolare l'università che aveva a che fare con gli esponenziali però non li avevo capiti. Non li avevo capiti. Non li avevo capiti veramente perché la mente umana funziona scientificamente parlando in forma lineare, su modelli lineari, quindi non siamo in grado di capire cosa è realmente un esponenziale e anche per questo non abbiamo cura dei trend che stanno avvenendo in questo momento. Se io ho un foglio di carta, ce l'avete più o meno tutti nelle vostre borse di 1-2 mm e lo piegate una volta su se stesso avete raddoppiato lo spessore, giusto? Se lo piegate 40 volte quanto diventa alto il foglio di carta? 40 volte. Potete urlare una risposta qualunque di getto. quindi? Quanto? Tanto? Dite. Buttatevi tanto, non voglio dire, siamo tra amici. Come? La distanza tra la Terra e la Luna. La distanza media tra la Terra e la Luna. Bravo. Ok? C'è la seconda volta in 50 volte che dico questa cosa che qualcuno indomina il primo colpo. La distanza media tra la Terra e la Luna. Ok? Questo è un esponenziale, no? 2 alla 40, giustamente, moltiplicato per i millimetri del foglio fa la distanza media tra la Terra e la Luna. Ok? Questo è un esponenziale. E il punto chiave è che alla piegatura precedente siamo a metà della distanza tra la Terra e la Luna. Quindi per dire come un esponenziale ha un impatto che per la maggior parte del tempo sembra non esistere come nel processo di cottura di pop corn e poi improvvisamente avviene e ne dobbiamo tener conto. Allora gli esponenziali siano tutti attorno a noi. La popolazione l'abbiamo visto, consumo dell'acqua, concentrazione di CO2, adesso speriamo che con Trump non dobbiamo mettere in discussione che questa è una curva reale. Numero di auto, leggete da voi, tantissimi esponenziali che in questa epoca stanno concorrendo e si trovano sulla rampa di lancio nel momento in cui io sto parlando. Abbiamo visto appunto lo sviluppo del turismo, il consumo di fertilizzanti, il numero di ristoranti McDonald nel mondo, per dire. Sono tanti trend che contemporaneamente agiscono attorno a noi con questa velocità. con questa accelerazione. Nel resto, probabilmente l'avrete visto, era il Gore quest'anno al TEDx, gli ultimi 14 dei 15 anni più caldi che siano stati mai misurati dal 1800 in poi sono caduti negli ultimi 15 anni. Li vedete tutti. La grande novità è che l'anno più caldo è stato il 2015 ma già adesso hanno calcolato che il 2016 è diventato l'anno più caldo di sempre anche se mancano due mesi alla fine dell'anno. Guardate questa. Questa è le anomalie di temperatura che sono state misurate nel mondo purtroppo non ho un puntatore rispetto alla media degli ultimi vedete lì tra il 50 e il 1980. La cosa incredibile è che ci sono zone del mondo e guardate il polo nord in cui la media misurata è compresa tra i 4 gradi e 13 gradi superiore alla media dell'ultimo secolo. 12 gradi. Guardate questo. Questo misura la temperatura dal 1852 l'uomo misura ogni mese la temperatura media della terra e lo fa per mesi vedete. Guardate che cosa succede cosa è successo dal 1850 ad oggi. guardate negli ultimi anni questo arriva a marzo del 2016 già sappiamo che è stato il marzo più caldo di sempre così come anche il febbraio anche aprile maggio, giugno luglio, agosto settembre, ottobre sono stati i mesi come li ho nominati quindi gennaio febbraio, marzo più caldi da quando l'uomo misura questa temperatura cioè dal 1850 circa. e quindi anche per questa ragione a dicembre lo scorso anno c'è stato un consenso generale e alla conferenza COP21 di Parigi c'è stato il famoso accordo che è firmato da quasi 190 stati nel mondo in cui ci si è impegnati adesso ci sono le ratifiche in corso in vari paesi a affrontare questo problema e a mantenere la temperatura quindi con azioni specifiche a mantenere la temperatura media rispetto ai numeri che abbiamo visto inferiore a 2 gradi centigradi questa è una notizia fantastica noi abbiamo seguito da vicino quello che è avvenuto a Parigi anche se il risultato non è stato diciamo così quello assolutamente sperato però è una notizia fantastica perché solo qualche mese dopo sono stato invitato a Stoccolma a febbraio in una riunione in cui erano invitati 150 business leader del mondo io non sono un business leader ero lì per facilitare un tavolo di lavoro al mio tavolo c'era il presidente di Unilever del più grande cementificio d'Europa e così via e c'era Johanna Rockström questo scienziato che tra l'altro se qualcuno ha visto il film di Leonardo Di Capri o il documentario di qualche settimana fa qualche giorno fa c'è anche Rockström è uno dei scienziati che ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo di Parigi Rockström dice una cosa fantastica dice nel 2040 noi vivremo in una società decarbonizzata e lo ha detto davanti a questi business leader oltre al re di Svezia che è una di queste immagini e quando ci siamo trovati a discutere dopo questa lezione dopo questo input fornito allo scienziato con tutti i business leader nei tavoli di lavoro dovevano trovare delle azioni che come aziende si impegnavano a fare in questi anni per raggiungere quell'obiettivo che abbiamo visto il 2040 di Carbon High Society e la cosa incredibile che è emersa che sì c'erano grandi idee intelligenti ma l'idea comune a tutti i tavoli a tutti i tavoli in tutti i tavoli è stata quella dobbiamo assolutamente investire nell'education dobbiamo andare nelle scuole a parlare con le nuove generazioni e insegnare e spiegare questo concetto che come pensate all'inizio diciamo bella idea poi riflettendoci però è anche la più clamorosa mancata opportunità di assunzione di responsabilità 2040 mia figlia sarà forse sì sarà certamente lavorando ma forse sarà diciamo così non è sicuro che sarà classe dirigente la classe dirigente che permetterà di raggiungere questo obiettivo è quella che era quel giorno all'interno di quella stanza perché quello che dice Rockstrom è che per raggiungere questo obiettivo noi in realtà abbiamo sì 23 anni e mezzo per arrivarci che non sono tanti ma nello stesso tempo possiamo renderlo possibile soltanto con le azioni che faremo nei prossimi 5 anni quindi invece di insegnare le scuole oppure dobbiamo certamente preparare nuove generazioni con questi concetti ma allo stesso tempo sono quei business leader che devono darsi da fare perché la società che è la parola probabilmente più interessante in questa slide dovrà cambiare notevolmente volevo mettere un'immagine per come sarà una società decarbonizzata ovviamente non esiste perché abbiamo miliardi di gradi di libertà per raggiungere questo obiettivo questo titolo che io penso sia meraviglioso ho trovato questa immagine di Parigi nel 2040 che può essere simpatica qualche settimana prima di Parigi Papa Francesco io non sono religioso ma è la prima enciclica della mia vita che ho letto per motivi tecnici perché è un testo tecnico in cui uno dei punti principali anticipava questo concetto della decarbonized society che potete leggere subito dopo Parigi sono successe le cose straordinarie non riesco a non far vedere ogni tanto una Tesla perché come me immagino molti di voi sono un appassionato follower diciamo di Elon Musk però quello che ha fatto quest'uomo è stato quello veramente di rendere possibile una cosa che era che diciamo che molti di noi abbiamo pensato ma certo c'è già una soluzione no? le prime auto erano elettriche non avevano il motore a scoppio e continuo a fare un casino con i pulsanti però il punto chiave è che dobbiamo cambiare completamente mentalità io credo che sia questo l'insegnamento di Elon Musk il primo insegnamento qui ho queste immagini in cui si vede che c'è un problema come vedete è caduta un'auto in un porto e l'uomo l'essere umano applica un processo per risolvere questo problema prende una gru quindi grande problema grande soluzione la solleva però che succede? che potrebbe non essere sufficiente quella soluzione allora l'uomo che fa con l'approccio lineare di cui abbiamo parlato prima? il problema è più grande prende una soluzione più grande qual è la prossima slide? bam photoshop questa però questo è il concetto che noi applichiamo allora non devo tirar fuori Einstein che dice che se vogliamo risolvere i problemi non lo possiamo fare con lo stesso tipo di pensiero con la quale abbiamo creato e qui secondo me è l'insegnamento di Musk questa è la torre vabbè sapete la statua libertà speriamo che rimanga ancora lì la torre di Pisa ma nello stesso tempo voi sapete che Elon Musk ha anche lanciato SpaceX che è questa azienda negli Stati Uniti il più grande fornitore privato diciamo di servizi spaziali chiamiamoli così e recentemente ha raggiunto un risultato straordinario che è questo qui quello che ha fatto e ha fatto atterrare la torre di Pisa più o meno avete visto le altezze o la statua libertà su una piattaforma in mezzo all'oceano tra l'altro con non so se avete fatto caso al nome della piattaforma ma è simpatico dopo aver lanciato un razzo alcuni satelliti nello spazio quindi rendendo riutilizzabile uno degli elementi di costo maggiore in una missione spaziale quanti di voi avevano visto questo video ok non l'hanno visto tutti questa è una cosa straordinaria pensate all'insegnamento e quello che colpisce nel video che abbiamo visto che non dobbiamo rivedere da capo è ovviamente ci sono stati dei fallimenti ancora adesso qualche volta ci riescono e qualche volta no attenzione non sempre ci riescono però è straordinario anche il fallimento in un certo senso perché solo fallendo raggiungi questo risultato ma guardate questa è un'azienda privata 3.000 persone successo in meno di 4 anni profitable la vision è ovviamente fantastica la leggete ma il punto chiave che in quella stanza che avete visto in questa azienda all'età media è di 27 anni immaginate Elon Musk che deve tirare su un team che deve lavorare sullo spazio e chiama tutti i grandi scienziati della NASA quanti di questi avrebbero detto è impossibile questa cosa tutti l'avrebbero detto allora lui ha scelto 27 anni di media di età ed è riuscito a rendere possibile quello che tutti quanti pensavano fosse impossibile in questi mesi dopo Parigi Rockefeller ha deciso di investire da tutti gli investimenti che avevano che hanno a che fare con Fossifuol la più grande azienda di carbone del mondo è fallita a marzo di quest'anno di estrazione di carbone del mondo Exxon che è la più grande petrolifera del mondo ha perso dopo 70 anni per la prima volta la AAA di Standard & Poor's a San Francisco non puoi più comprare e usare bottiglie di plastica per bere la tua acqua in Norvegia c'è una legge secondo la quale dal 2025 non potrai più comprare un'auto a benzina o diesel ovviamente se non la puoi comprare nel 2025 quale matto comprerebbe nel 2024 un'auto che l'anno successivo non potrebbe rivendere la stessa cosa in Olanda leggi dello Stato 2025 in India addirittura dal 2030 non potranno neanche più circolare le vecchie auto a benzina o diesel in Germania non ho fatto in tempo ad aggiornare questa 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 spot che dice Plans in realtà la legge è statale la patria di Porsche Mercedes BMW eccetera dal 2030 non potranno più vendere si potranno più vendere auto a benzina o diesel questo l'ho voluto mettere perché alcuni mi dicono vabbè ma la Fiat noi siamo legati alla Fiat anche loro sono legati ovviamente la loro industria automotive è legata a marchi tedeschi questo è il modello 3 di Tesla non so se sapete la costerà 30.000 dollari quello che hanno fatto in Tesla è stato poter fare una prenotazione di quest'auto pagando 1000 euro e quello che è avvenuto che è stato il più grande ordine di auto della storia dell'automotive 400.000 adesso dovrei andare a vedere i nuovi dati in meno di un mese e mezzo 400.000 ordini del modello 3 ovviamente full electric con la guida automatica autonoma anzi e così via questa è l'ultima notizia in Francia da qualche giorno nuova legge dal 2020 tutte le vettovaglie anche quelle che abbiamo visto qui quindi bicchieri forchettine piattini non potranno essere più di plastica qui c'è un'azienda italiana che ha festeggiato per questa cosa perché ha alcuni dei più dei ritrovati e dei brevetti più interessanti in questo ambito qualcuno dice vabbè l'ha fatto la Francia che si muova tutta l'Europa l'ultimo spunto prima di raccontarvi brevemente di B Corp è questo qualche giorno fa qualche settimana fa sono stato invitato dalla grande azienda italiana a parlare con l'amministratore legato dei temi di B Corp e Benefit Corporation sono andato nella torre di sinistra settimo piano e ho parlato con lui mi è piaciuto tantissimo assolutamente dobbiamo andare a parlarne con la direttrice Corporate Social Responsibility di questa azienda questa è un'azienda più famosa in Italia non mi va a dire il nome ma insomma forse qualcuno ci può arrivare allora usciamo insieme dalla sua stanza e andiamo verso la stanza della direttore responsabilità facciamo tutti prendiamo l'ascensore e scendiamo al piano terrico no sotto scala no no a un certo punto prendiamo il corridoio andiamo qui e riprendiamo l'ascensore per arrivare al settimo piano della seconda torre quindi diciamo secondo l'iconografia dell'importanza organizzativa è importante al settimo piano ma guardate qual è il punto più lontano dal business è che è esattamente quello sarebbe stato più vicino al sotto scala quindi questa è un'azienda in cui da una parte c'è il business e dall'altra parte c'è l'impatto l'impatto sociale e ambientale di quell'azienda esattamente nel punto più lontano possibile è un altro mondo sono le due torri le chiamo oramai dopo questa esperienza allora davanti alle sfide di cui abbiamo parlato adesso un'azienda che ruolo può giocare e in caso lo volesse giocare lo gioca con un modello delle due torri in cui dobbiamo prendere due ascensori e cento metri di corridoio per arrivare a dialogare con chi si occupa dell'impatto in più vediamo continuamente statistiche sui millennials che tra l'altro non sono certo una nicchia visto che sono più del 50% della forza lavoro nel mondo in questo momento ma guardate questa percentuale le persone pensano che il business sia responsabile al pari dei governi del proprio benessere quindi non posso più soltanto dire piove governo ladro quando qualcosa non va ma sono anche le imprese che devono dare un contributo per il mio benessere per la prima volta queste percentuali sono praticamente identiche allora davanti a questo quello che sta avvenendo in questo momento e che è già chiaramente un processo in atto e che le aziende cominciano a capire che devono giocare un ruolo in più in questo scenario da una parte fino adesso abbiamo avuto il mondo del for profit quelli che fanno i soldi e dall'altra abbiamo avuto il mondo del non profit quelli che hanno i valori pensate che dicotomia assurda bene da qualche anno negli Stati Uniti con un movimento che si sta sviluppando in maniera molto rapida nel mondo è nato un nuovo modello di impresa prima attraverso uno strumento di misura proviamo a vedere che impatto ha la mia azienda sulla società e sull'ambiente poi è stato talmente forte questo concetto che addirittura negli Stati Uniti hanno fatto una legge per riconoscere aziende che hanno una duplice finalità che quindi oltre al profitto perseguono un impatto sociale e ambientale si chiamano benefit corporation quindi in California vi faccio un nome Patagonia oltre a essere una certified B Corp perché ha fatto quella misura è anche un'azienda che ha trasformato il proprio status legale Kickstarter che sicuramente conoscerete è una benefit corporation oltre a essere una certified B Corp quindi sono aziende che decidono di misurarsi e di rendere esplicito il risultato di quella misura e in più possono questo non è obbligatorio possono anche trasformarsi se vogliono assicurare che quello per cui esistono i valori per cui esistono esisteranno anche nel futuro cioè i manager i futuri azionisti la forza lavoro di quell'azienda rispetterà quell'obiettivo che è scolpito nel proprio oggetto sociale quindi scopo molteplice profitto e impatto positivo responsabilità si allarga anche il grado di responsabilità e di accountability dell'azienda verso tutti gli stakeholder quindi da certamente il personale sindacati le comunità in cui opera quell'azienda e in più la trasparenza decidono di misurare con uno standard rigoroso e di rendere tutto questo trasparente nel mondo ci sono circa 2000 aziende che si sono certificate B Corp ce ne sono circa 5000 che sono anche diventate società benefit quindi benefit corporation 2000 perché sono 2000 sono 2000 perché vi faccio un esempio in Italia più di 500 aziende hanno provato a certificarsi e 50 ci sono riuscite fino adesso quindi non è rigoroso è difficile e gli standard devono essere di altissimo livello questa è la crescita del numero delle certified B Corp qualche mese fa a maggio siamo stati intervistati io e il mio socio Eric in una puntata di report in cui la Gabanelli per la prima volta ha detto una cosa positiva rispetto a un concetto come vedete in questa foto che ho voluto immortalare e abbiamo avuto il giorno dopo migliaia e migliaia dalla notte stessa migliaia e migliaia di contatti telefonate mail di tutti i tipi veramente siamo stati non eravamo minimamente attrezzati per sostenere questa botta di energia clamorosa incluso telefonate da amministratori legati di aziende internazionali che hanno sede in Italia per dirvi quando mai tu consulente ricevi la telefonata da quello che potrebbe essere un tuo cliente è sempre un po' il contrario questo per dire che veramente sembra che sia giunto il momento ed è forte questo momento è talmente forte solo come se appunto per quell'idea fosse giunto il vero momento di esistere vado avanti su alcuni aspetti visto che mi fanno segno che più di 50.000 aziende nel mondo io ho detto 500 in Italia nel mondo sono 50.000 hanno provato a misurarsi con questo strumento che è totalmente gratuito è online e 2.000 circa hanno avuto una pagella sui vari aspetti di analisi che supera il livello minimo di 80 punti sì per certificarsi c'è un livello minimo come dicevo prima si arriva tra 0 e 200 punti per 200 il massimo fai il tuo assessment e vedi a che punto ti trovi quello che abbiamo capito in questi anni di applicazione e anche di supporto a alcune aziende è che 80 punti è un po' come se fosse un total break even break even spesso consideriamo soltanto quello economico o finanziario bene in questo caso 80 punti tiene in considerazione l'impatto di quell'azienda allora se tu sei sotto gli 80 punti in fondo la tua azienda la tua idea di business sta prendendo più di quello che restituisce se invece sei sotto 80 punti vuol dire che questo break even è raggiunto allora noi diciamo che sei distruggendo valore se sei sotto gli 80 punti e quelli di quelle 500 aziende italiane 450 hanno uno score sotto gli 80 punti mentre invece lo stai realmente creando se hai sopra questo punteggio cosa interessante è che di queste 450 aziende più della metà adesso hanno deciso di mettere in piedi dei piani per superare nei prossimi anni e quindi usare questo concetto anche come stimolo al miglioramento questo è Schiller che è il premio novella dell'economia che dice hanno uno doppio scopo come dicevo prima le B Corp le Benefit Corporation avranno un vantaggio maggiore delle altre dei risultati migliori Fast Company ogni anno dice quali sono le aziende più innovative del mondo vince un anno Apple un anno vince Google l'anno scorso per la prima volta ha vinto un'azienda che fa occhiali che si chiama Warby Parker a New York esiste da 4 anni hanno per ogni occhiale che vendono un paio di occhiali lo regalano a una persona nel mondo che ne ha bisogno e sono quasi un miliardo 780 milioni le persone che non hanno accesso agli occhiali e che quindi non possono accudire i propri figli studiare lavorare e loro ne regalano e guardate sarà fondata nel 2010 e B Corp dal 2011 e ha donato più di un milione di occhiali quindi vuol dire che ne ha vendute almeno un milione Patagonia l'ho detto Yvon Cunare che è un mito spaziale dice tra 5 e 10 anni quando volteremo indietro a guardare questi giorni capiremo che era stato l'inizio di un cambiamento di uno shift di paradigma nel concetto di fare impresa Fratelli Carri è un'azienda italiana di Imperia in cui nonno 92enne quando abbiamo parlato di questi concetti mi ha detto ma noi siamo B Corp da 100 anni siamo da sempre B Corp tante aziende italiane sono così non tutte ovviamente ma tante hanno nell'anima questa idea di avere un impatto questo è il gruppo di Nativa che si occupa di questo concetto di B Corp e noi aiutiamo le aziende a capire al meglio questo è acquisire uno status di B Corp Luca Rossettini di Orbit una delle start up più italiane di maggiore successo nel mondo fanno razzi per recuperare i satelliti che sono morti attorno allo spazio attorno alla terra attorno alla terra ci sono in questo momento circa 4.000 satelliti di questi tre quarti sono in default morti spazzatura Unilever un mostro una multinazionale Polman è il nuovo da un paio d'anni amministratore delegato ha cambiato molte cose in azienda quello che ha fatto è acquisito un'azienda in America Ben & Jerry's gelati californiani hippie che è una benefit corporation questa azienda prima di essere acquisita si è trasformata in una benefit corporation proprio per proteggere all'interno del proprio statuto i valori che avevano anche determinato il loro successo così che la multinazionale non potesse modificare gli aspetti chiave di quell'azienda Polman non solo non può modificare lui ha accettato questo concetto che è deciso che da adesso in poi tutte le aziende del gruppo dovranno trasformarsi in una B Corp ovviamente per alcuni di questi marchi ci vorrà del tempo intanto ha comprato una nuova azienda Seven Generation negli Stati Uniti che è già una B Corp una benefit corporation quindi facendo di questo anche un target di acquisizione Change.org è una società benefit negli Stati Uniti Crocker una delle aziende che abbiamo fondato è una B Corp è una società benefit in Olanda e in Italia Kickstarter è allo stesso momento vi invito a leggere lo statuto di questa azienda perché rimarrete veramente sorpresi di quello che c'è scritto nel loro oggetto sociale queste sono le aziende italiane che fino adesso hanno raggiunto la certificazione sono 50 Nativa è stata la prima noi facciamo appunto progettazione a prova di futuro diciamo noi la cosa interessante è che quando l'abbiamo fondata abbiamo scoperto che c'era questa legge negli Stati Uniti quindi abbiamo copiato abbiamo scritto lo statuto guardando la legge americana poi siamo andati al notaio che era un amico e siamo passati diciamo indenni e poi la Camera di Commercio di Milano ha bocciato il nostro statuto quattro volte perché non puoi scrivere in un oggetto sociale qualcosa di diverso dalla divisione degli utili da codice civile in Italia un'azienda SRL S.P.A. esiste per dividere negli utili non può esistere per altro allora c'erano degli aspetti nel nostro statuto che potete se siete magari interessati è online sul nostro sito che non andavano bene a questo funzionario che applicava la legge uno di questi poi uno degli ostacoli più grandi era stato che noi abbiamo scritto che noi esistiamo per massimizzare la felicità delle persone che lavorano in nativa ovviamente è un oggetto che può anzi sono contento che qualcuno sorridere perché è felicità dobbiamo sorridere ma noi misuriamo con un metodo tra l'altro scientifico tedesco questa cosa forse fa ancora più ridere che ogni tre mesi per vedere se abbiamo delle aree su cui dobbiamo lavorare beh felicità non andava bene allora siamo stati rejected non potevamo scriverci la felicità nella tua azienda tu non lo puoi scrivere felicità nel tuo statuto allora come le scarpe quello che la riflessione che facevamo quel giorno sono scritto stamattina quindi un po' così però anche le aziende sono nate con un difetto progettuale quindi la divisione degli utili è l'unico scopo per cui esistono qualcuno si è dimenticato che c'erano il people e planet se lo sono dimenticati allora questo lo stiamo riacquisendo adesso con questo concetto che è quella le persone il pianeta sono al centro l'economia non è più un fine ma è un mezzo perché possiamo raggiungere la nostra felicità allora noi presi da questo stimolo siamo dei combattenti diciamo così ci siamo fatti invitare a Leopolda nel 2014 andiamo a vedere questo posto com'è e ci hanno dato un tavolo e abbiamo cominciato a parlare di B Corp società benefit e allora senatori medici frutti vendoli che trovi in quella stanza devo dire un'esperienza personale molto positiva e dopo qualche mese grazie a noi abbiamo creato un gruppo di lavoro e abbiamo scritto insieme a un senatore il disegno di legge sulle società benefit in Italia abbiamo detto una legge negli Stati Uniti prima o poi sarà così anche in altri Stati del mondo e allora ha detto proviamo a fare dell'Italia al primo Stato questo è il primo articolo numero uno duplice finalità società benefit che nell'esercizio di un'attività economica oltre allo scopo di dividere negli utili come vi ho detto dal codice civile perseguono una più finalità di beneficio comune operando eccetera eccetera tu devi scrivere a uno soggetto sociale il beneficio comune che intendi perseguire vi faccio un esempio c'è un'azienda che assume soltanto donne single madri che è un problema sociale evidentemente di trovarsi in difficoltà economica davanti a una situazione di questo genere e c'è un'azienda che assume soltanto donne single madri questo lo farà per sempre finché qualcuno non cambierà l'oggetto sociale la cosa incredibile è che il 21 dicembre siamo diventati il primo paese al mondo al di fuori degli Stati Uniti a avere una società benefit come modello legale quindi se fate una start up fatela già adesso così incorporatela come una società benefit e quello che sta avvenendo adesso è che in pochi mesi pochissimi mesi non c'è un registro ufficiale ma abbiamo avuto notizia di quasi 200 aziende che o si sono trasformate o sono nate come società benefit quindi finalmente siamo tornati dal notaio e siamo stati finalmente approvati per il nostro obiettivo queste erano le B Corp di prima alcune di queste lo vedete cerchiate sono anche società benefit questo è un signore Riccardo Sabatini che ha visto il TED di Vancouver di quest'anno cioè il TED quello ufficiale era l'unico italiano sul palco vi invito a vederlo perché è straordinario quello che fa vedere e lui quando abbiamo parlato di B Corp il nostro amico ha detto l'idea di B Corp è così ovvia che il contrario suona sospetto come può esistere il contrario di una cosa del genere allora noi abbiamo un sogno che un giorno tutte le aziende competano non solo ecco questo c'è il video veramente un minuto su che abbiamo realizzato sulla no forse lo devi lanciare vediamo no noi abbiamo un sogno vabbè non fa niente il video è disponibile online e parla di quello che ho detto io più velocemente qualche giorno fa siamo stati siamo stati premiati come io Eric in Philadelphia al Global Retreat delle B Corp come most valuable player perché grazie al fatto che abbiamo fatto abbiamo consentito che un altro paese al di fuori degli Stati Uniti avesse una legge che possa incorporare questo tipo di modello ovviamente perché è importante questo perché subito dopo questo fatto più di 20 nazioni del mondo Francia Cile Colombia Danimarca hanno chiesto consulenza al movimento per poter fare una legge anche nel loro paese quindi non è più soltanto una cosa nazionale americana ma è diventata una cosa internazionale l'ultimo messaggio il primo dicembre a Milano festeggiamo la classe dei fondatori delle B Corp italiane è un evento aperto lo facciamo a base un obbificio in zona Tortona ci saranno anche i fondatori di B Lab quindi del movimento americano e tante vi invito veramente a venire a toccare anche con mano e a conoscere alcuni rappresentanti di queste aziende concludo con un messaggio che forse è l'aspetto che più intimamente ci porta a venire in queste situazioni in queste conferenze e a parlare di questo aspetto se voi pensate soltanto 150 anni fa il modello operativo con cui funzionavano le aziende era basato sulla schiavitù gli imprenditori noi molti di noi sono imprenditori facevano un'azienda e basavano le proprie operation su un modello che era quello della schiavitù adesso ovviamente non ridiamo a pensare a questa cosa noi crediamo che tra qualche anno e non ce ne vorranno 150 o 200 di anni qualcuno guarderà le aziende di oggi e dirà ma come è possibile l'unico obiettivo era avere il profitto per i propri azionisti e chiamare collaterals gli impatti negativi che avviano sul mondo noi crediamo che sia veramente simile il tipo di riflessione che qualcuno farà nel futuro grazie Sassa? Sì ci siamo Paolo è qui per alcune domande se volete pensavo di scappare ma in realtà l'abbiamo quindi se ci avete delle domande da fare passiamo col microfono gelato e raccogliamo domande Paolo vi risponde insomma ci teniamo 3-5 minuti massimo per le domande se ce ne sono ovviamente sì dai ci sono questa è facile che scarpe indossa? le scarpe le abbiamo progettate qui non eravamo d'accordo ma queste sono scarpe che Nativa ha progettato per una grande azienda italiana si chiamano New Do quindi un nuovo fare e sono scarpe non so se sono le più sostenibili al mondo ma in questo caso magari esteticamente possono essere migliorate diciamo così ma anche se a me piacciono anche come sono fatte e sono scarpe che sono nate con quello stesso designer di cui vi ho parlato all'inizio che però fin dalla fase di progettazione ha applicato alcuni concetti di life cycle per esempio e quindi sono scarpe che a fine vita possono essere buttate dalla finestra si diciamo così in realtà il punto chiave è che l'azienda si chiama Geox il fondatore di quell'azienda e l'amministratore legato hanno deciso New Do di cambiare completamente il modo in cui progettano le loro scarpe e i loro prodotti sembra che eravamo d'accordo curiosità io comunque sono qui oggi se volete parlo volontieri con tutti grazie grazie Paolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti